Come comprare bitcoin in modo anonimo? Lo vediamo in questo video. In questi giorni ricevo tante richieste di questo tipo, cioè come fare ad acquistare in modo totalmente anonimo bitcoin, quindi cercare di bypassare quelli che sono gli exchange, bypassare tutti quelli che ti chiedono documenti, verifiche dell'identità e cavolate varie. Quindi in questo video andremo a identificare qualche soluzione per poter effettivamente acquistare bitcoin in modo anonimo, o almeno il più possibile anonimo. Prima di partire però bisogna rispondere ad un'altra domanda che sicuramente verrà fatta, ed è Ma perché dovrei acquistare bitcoin in modo anonimo? Cioè che che cos'hai da nascondere che vuoi acquistare bitcoin in modo anonimo? Premesso che la privacy è un diritto di chiunque, in particolare in ambito finanziario, qui non ci vedo assolutamente nulla di male, però ecco per tutti quelli che dicono, eh ma tu hai qualcosa da nascondere perché vuoi comprare bitcoin in modo anonimo, dobbiamo fare un pochino di chiarezza su alcune dinamiche e soprattutto sul perché sia in realtà importante andare ad acquistare bitcoin anonimamente. Partiamo dal presupposto che io posso andare su un exchange e su questo exchange collegarmi, fare il KYC, quindi la verifica dell'identità, mettere i miei documenti, mettere tutto e poi posso comprarmi i miei bitcoin partendo da euro. Quindi faccio i bonifici, pago con carta, faccio quello che c'è da fare per poter acquistare i miei bitcoin o comunque qualsiasi cripto. Bene, a questo punto io sto fornendo dei miei dati sensibili a terzi. Se l'exchange venisse hackerato, cosa può succedere? Può succedere che i dati dei clienti verrebbero sottratti e ragazzi non è una cosa così improponibile, così complessa, oddio non succederà mai, no? Oddio invece succede e succede tante volte. Quindi i dati di ogni utente diventano dati sensibili e che quindi andrebbero tutelati un minimo. Perché oltre alle nostre identità abbiamo anche la quantità di denaro che abbiamo sull'exchange. Quindi le due cose vengono unite. Ora, cosa succede generalmente quando un hacker colpisce un exchange? Può sottrarre dei fondi o può sottrarre i documenti relativi all'identità. Quindi a questo punto, cosa fa? Va a venderli sul dark web. E chi li compra dall'altra parte? Punto interrogativo, non lo sappiamo. Magari ti vengono a chiamare le ultime truffe, perché poi sono tutte truffe. E sappiamo che ha fatto, ha investito in cripto, ti arriva per esempio la chiamata di questo tipo. Oppure ti arriva la chiamata, è nuovo broker qui e lì. Ecco, quando siete arrivano chiamati di questo tipo, sai che i tuoi dati sono stati trasmessi a terzi. In qualche modo sono arrivati a terzi. Che siano stati gli exchange a rivenderli, perché anche lì non ci si può mettere la mano sul fuoco. Che siano stati hackerati, quindi sottratti, in ogni caso qualcuno ha i tuoi dati. Numero di telefono, carta identità, tutta questa roba qui, più che cosa? Quanto hai sul saldo. Ora, è chiaro che se tu stai investendo mille euro, chi se ne frega, ok? Ma se hai cifre di un certo tipo o hai intenzione di investire cifre di un certo tipo sul mercato cripto o su bitcoin, beh, allora magari fare un pochino di attenzione può essere importante. Cercare di tutelare il più possibile i propri dati, dato che, tra l'altro, la blockchain è un registro trasparente. Quindi chiunque può vederlo. E se io vado ad associare, così, per caso, un indirizzo con, dall'altro lato, un'identità, una faccia, non escludo che qualcuno magari ti venga a bussare poi alla porta, prima o poi. È un tema importante, va al di là del, eh, tu vuoi nascondere perché non vuoi pagare le tasse. Chi se ne frega delle tasse? Stiamo parlando di tutt'altra cosa. Un domani, quando ci sarà la possibilità magari di pagare in cripto direttamente da esercenti, quindi io vado al bar, piuttosto che sotto casa, e posso pagare in cripto, pagherò col mio wallet, beh, la persona vedrà il mio indirizzo, sa chi sono, mi vede la faccia, vede l'indirizzo wallet, e andando a cliccare sull'indirizzo, su un qualsiasi scan, in particolare se ci muoviamo su rete di ETH, non ne parliamo, saprà vita, morte e miracoli di noi. Quanto abbiamo? E tu credi che se vede che magari c'hai centomila, duecentomila, trecentomila, un milione di euro in cripto, magari non parla con quello che parla con quello che parla con l'altro, qualcuno ti viene a tirare una botta in testa? Può succedere, sono paranoie? Possibile, magari sono solo paranoie, però ragazzi, comunque sia, stare il più possibile in anonimato è fondamentale. Le proprie cripto bisogna custodirle e cercare di essere il più possibile anonimi, non solo nell'acquistarle, ma nel muoversi in questo mercato. A questo punto abbiamo fatto un preambolo spiegando il perché sia importante mantenere in privato la propria identità quando ci si muove nel mondo cripto. A questo punto vediamo quali soluzioni ci sono per acquistare bitcoin in modo anonimo. Le soluzioni nel tempo sono sempre meno. Una volta ce n'erano molte di più, oggi sono scese, calate drasticamente, perché ormai si sta regolamentando tutto e quindi si sta andando a mettere lo zampino con documenti che vuessi praticamente ovunque. Quindi chi agli albori si era riuscito a sistemare con qualche cripto qua e là, magari comprata direttamente da miner, fantastico. Oggi le cose sono un po' diverse. Al netto di tutto ciò vediamo delle soluzioni. Prima soluzione molto semplice, ragazzi, è l'acquisto tramite gli ATM. Gli ATM sono quei cassonetti dove tu vai lì e prelevi denaro, no, come quelli delle banche, uguali ma di bitcoin. Ce ne sono tantissimi in Italia. Il problema è che quelli italiani, ma anche tanti europei, ad oggi hanno implementato la scansione del codice fiscale. Quindi non si può più acquistare in modo anonimo da questi ATM, quindi andiamo a sfatare un mito, a meno che non si vada a farlo in Svizzera o in altri stati. Lì è ancora possibile. Quindi ci si può andare, se si fa una capatina così in Svizzera, si passa da uno di questi ATM, si possono mettere contanti, cash, scansionare il wallet dove vuoi inviare chiaramente i fondi, e ti inviano i bitcoin. Questo è assolutamente un sistema, uno probabilmente dei più diffusi, dei più conosciuti. D'altra parte, vediamo il contro di questo sistema. È il contro principale che, se sei in Italia, ti devi spostare, ti devi andare in Svizzera a fare questo acquisto. Secondo contro sono le commissioni, che se non vado errato, si muovono tra un, dipende poi quale gabbiotto trovi, ma vanno tra un 7-8%, 9% fino a un 12-13%, in alcuni casi anche 15%. Quindi sono commissioni spropositate e questo rende questo sistema non proprio economico e quindi non proprio il top del top. Altra strategia è l'acquisto da cambio valute. Anche questa strategia, qua in Italia, praticamente inesistente, all'estero invece si può fare. Ad esempio in Georgia, in Bulgaria, in alcuni stati, pochi in realtà stati dell'Unione Europea, quasi nessuno, tutti quelli fuori dall'Unione Europea invece è possibile farlo. Si trovano praticamente questi negozi di cambio valute che sono un po' come i negozi quando andiamo magari in vacanza, vediamo il classico negozietto piccolino con la vetrina, che tu entri, gli dai gli euro e loro ti danno il dollaro piuttosto che a seconda di dove ti trovi. Funzionano nello stesso modo solo che hanno anche bitcoin e cripto. Quindi tu puoi andare lì, dai il contante in modo anonimo e loro ti versano i bitcoin dove vuoi. Sia bitcoin, se non sbaglio, in alcuni casi addirittura anche stablecoin. Prevalentemente lo fanno con bitcoin comunque. Questa è un'altra cosa sicuramente interessante, un'altra soluzione interessante. Anche qui c'è un po' di spread e abbastanza elevato rispetto a cambiarli chiaramente su un exchange online che è più semplice, però ragazzi comunque sia lo si fa col cambio diretto in cash e quindi come secondo modo è sicuramente molto meglio rispetto all'ATM che è più costoso, però è ovviamente scomodo se sia in Italia. Terzo modo. Per parlare del terzo modo parliamo della fase online, quindi come si può fare questo tipo di acquisto online. Ci sono tantissime soluzioni, molte purtroppo ragazzi sono scam, altre invece sono delle fregature nel senso che ci sono exchange che ti permettono di acquistare bitcoin in modo anonimo e tu effettivamente li puoi acquistare con bonifico e tutto, ma dopo che li hai acquistati si rivelano delle cagate nel senso che ti chiedono per poterteli prelevare i documenti della verifica di identità, quindi non servono assolutamente a nulla. Quindi questi exchange lasciali perdere, si chiamano gli shotgun KYC, lasciali perdere. D'altra parte ci sono invece dei tool, degli strumenti che effettivamente ci permettono di poter acquistare bitcoin in completo anonimato anche online, o meglio, completo anonimato, ni. E adesso vedremo il perché dico questo. Da un lato ci sono i bot telegram, ci sono dei bot telegram che ti permettono sostanzialmente di acquistare bitcoin. Alcuni funzionavano anni fa, li avevo provati, effettivamente funzionavano. Poi molti sono saltati, molti hanno smesso di operare, si sono create un sacco di scama a riguardo, praticamente come funzionavano. Tu ti collegavi a questo bot, questo bot ti dava un bonifico, un indirizzo a cui bonificare, tu andavi in un tabaccaio, versavi il contante, bonificavi a questo indirizzo, prendevi la ricevuta, la scansionavi e il bot ti inviava sul tuo wallet i fondi. Quindi sostanzialmente facevi questa operazione qui che era relativamente anonima. Ad oggi molti di questi non funzionano più e la maggior parte che ci sono sono scam, quindi non guardarli neanche, però ecco per onestà intellettuale te li ho portati. Te l'ho spiegati come funzionavano. Ad oggi ci sono invece soluzioni di exchange P2P, quindi dove si va a scambiare sostanzialmente da persona a persona. Sono exchange che non necessitano di KWC, perché? Perché di fatto fanno da ponte, fanno da intermediario, tu non stai versando euro sulla piattaforma, quindi non ti stanno gestendo i fondi, ma si stanno solo mettendo tra te e il venditore o l'acquirente, a seconda della figura che sei. È come se fosse un po' un subito di bitcoin, dove tu arrivi, hai un portale, alcuni sono da scaricare, tipo Emule, mi viene da pensare BISC, che è uno di questi, oppure altri sono direttamente online, quindi ti colleghi, ti connetti online, devi mettere una mail, una password, decidi tu che email e password mettere, ovviamente, come Odlodl, che è un altro che fa la stessa cosa di BISC, ma online. Come funzionano? Allora, praticamente tu, nel caso di BISC, per esempio, ti vai a scaricare il software sul computer, una volta che l'hai scaricato sul computer, lo apri, accedi, e ti ritrovi all'interno di un mercato dove hai una sezione di acquisti e una sezione di vendite. Nella sezione acquisti ci sono ordini di acquisto di persone, nella sezione vendite ci sono persone che vogliono vendere. Andrai a sceglierti l'offerta migliore, quindi c'è una persona che vuole vendere 2 bitcoin, quello che vuole vendere 0.1 bitcoin, quello che vuole vendere 20 bitcoin, ce l'è un po' per tutte le tasche, generalmente sono comunque degli ordini abbastanza ridotti, sceglierai l'offerta, e ti metterai praticamente in contatto diretto con quella persona lì che sta vendendo, quindi col venditore. BISC fa da intermediario, così come lo fa anche Odloodl, però online. Odloodl è praticamente uguale, cioè molto simile in realtà, adesso vedremo un paio di differenze, ma lo fa online appunto, non ti devi scaricare nulla sul computer. A quel punto, una volta che ti sei messo in contatto, decidete quanto ti deve inviare, quanto devi pagare, chiaramente tu, e parti col pagamento. Tu fai il pagamento in euro, lui ti invia poi bitcoin. Quando ti registri, devi andare a depositare un importo minimo di bitcoin. Questo perché? Perché servirà da fondo di garanzia, in modo che, se dall'altra parte la persona, il venditore o l'acquirente che sia, non sta ai patti, andranno a risolvere la disputa prendendo, attingendo da quel fondo lì e distribuendolo, che è un po' come un fondo di garanzia bloccato lì finché non viene fatta la transazione. Come fosse una sorta di escrow. Viene fatto lo stesso anche su Odl Odl. Nel caso di Odl Odl, è uno scioglilingua, appena tu vai a fare la transazione, acquisti, quindi stai acquistando i bitcoin, vengono bloccati i tuoi fondi, vengono bloccati i bitcoin della persona che ti deve dare i bitcoin. Quindi c'è questo escrow, che funziona come uno smart contract, vengono bloccati. Quando ci si è assicurati che entrambe le parti sono state oneste, quindi entrambi hanno fatto il suo, allora si sbloccano e viene conclusa la transazione. Altrimenti si va in disputa e nel caso ci fossero problemi per la disputa perché ovviamente l'acquirente dice no ho ragione io, il venditore no ho ragione io, arriva un'entità terza, quindi della società, che viene a risolvere la disputa 3-2 e fare quello che c'è da fare. Ora, non ti preoccupare, devo dire che negli anni in cui BISC è attivo e Odl Odl sono attivi, quindi entrambi, forse le dispute si contano sulle dita di una mano. Non c'è alcun tipo di problema, tendenzialmente si fa bene tutto. Bisogna comunque sempre avere un occhio di riguardo, un occhio di attenzione. Però sono dei tool che ti permettono di comprare direttamente. A questo punto la domanda che mi arriva è eh ma io stesso comprando con carta, perché magari uso una carta o faccio un bonifico, dipende poi come generalmente si usa la carta. Sì, è vero. In questo contesto molte di queste piattaforme ti dicono di utilizzare innanzitutto carta prepagata se puoi, che può essere N26, Revoluto, quello che ti pare, Postepay, quello che ti pare. Però, uno, prendere degli importi piccoli, quindi non andare a comprare due bitcoin, ok? Si vanno a prendere generalmente gli importi piccoli, possono essere 3, 400, 500 dollari di bitcoin. Però magari ti fai il tuo piano da Q1 per dire 300 dollari al mese, 400 dollari al mese, ci sta, ok? Quindi si fa acquisti piccoli e poi sulla carta molti di questi venditori ti dicono di andare a scrivere altro tipo, donazione, o meglio ancora, acquisto televisore, come causale, robe di questo tipo. In questo modo, diciamo che, lato tuo, nessuno sta vedendo che stai comprando dei bitcoin, cioè risulta un pagamento fatto ad una persona per non si sa quale motivo. Lato venditore, si legge che hai venduto il tuo televisore, hai venduto la tua macchina, hai venduto che ne so, no? Quindi anche in quel lato lì si sta abbastanza tranquilli. Si è un po' in una sorta di nebbia, no? Ok. Questa è la situazione. Questo è un altro sistema online per poter acquistare. Ovviamente chi sta vendendo cercherà di fare un prezzo che sia per lui conveniente. Viceversa, chi sta acquistando tenderà a sua volta ad avere un prezzo conveniente. Quindi ci si andrà un pochino a mezzare, a trovare una via di mezzo e voilà, poi sarà fatta la transazione. Questo era un altro sistema. Un altro sistema ulteriore è quello, ragazzi, di andare ad acquistare direttamente da miner. Quindi se conosciamo dei miner, cosa improbabile, o entriamo in contatto con dei miner, che però, dobbiamo assicurarci che siano realmente miner, in realtà, oggi, ti posso dire, per esperienza, che ci stanno nascendo un sacco, un sacco, un sacco di attività, di network basate su mining, quindi non è da escludere che tu non possa incontrare un amico o avere un amico che parteciperà a società di questo tipo. Ce ne sono veramente tantissime, stanno spuntando come funghi, perché siamo in fase di halving e quindi tutti vogliono fare mining, tutti vogliono accumulare bitcoin e quello che è. A questo punto andrai a parlare direttamente con queste persone qui o ti metterai in contatto con queste persone qui che fanno mining, ti venderanno bitcoin e se vi conoscete sarà sicuramente molto più semplice, vi mettete d'accordo, decidete poi come fare, ci sono mille soluzioni. Ultima via che si va a connettere a questa, per esempio, del miner è acquistare, questa è per me la via top, quindi la via migliore in assoluto, acquistare da chi conoscete che possiede bitcoin. Andate in questo modo a risolvere tutto il problema della fiducia, perché hai davanti una persona che conosci, magari il tuo vicino di casa, magari il tuo amico, qualsiasi cosa, però lo conosci e sei tranquillo. Due, risolvi il problema di carte e pagamenti online, paghi cash. Questa è un'altra soluzione, quindi dall'altra parte hai un tuo amico che ha bitcoin e gli dici scolta, mi dai 100 euro di bitcoin, mi dai 200 euro, mi dai 1000, mi dai 10.000, dipende poi cosa uno ha, occhio che in Italia sopra i 5000 non si può fare l'acquisto in contanti o 2000, insomma cambiano di continuo, quindi fai attenzione, però di fatto potresti anche fare così. Dici guarda, inviami dei bitcoin e io ti do il contante e voilà, hai risolto il problema, hai acquistato in modo anonimo, a quel punto ce l'hai in modo anonimo. Il problema nasce poi dopo, cioè quando dovrai fare cash out di questi bitcoin, quindi quando sarà il momento di venderli, che vorrai venderli, due cose puoi fare, se li porti sugli exchange e li vendi e li parcheggi in crypto o in WestDT, stablecoin, quello che vuoi, assicurati di farlo su exchange senza che vuoi sì, perché se lo fai su exchange con che vuoi sì, è vero che se ti muovi con 1000 euro, 2000 euro, 3000 euro, magari neanche ti vengono a guardare, ma se ti muovi già con cifre di 50, 100.000 euro, forse iniziano magari a insospettirsi qualcuno e quindi ti arrivano a bussare alla porta e ti dicono uè ciccio ma da dove li hai presi sti soldi e quindi parte l'antireciclaggio, di dimostrare che da dove arrivano i fondi ed è tutto un casino, quindi anche questa è un'altra cosa importante da comprendere, una volta che entri nel mondo anonimo devi cercare il più possibile di rimanere in anonimato, quindi se dovrai scaricare dei bitcoin andrai a venderli come di nuovo a mano, se li hai comprati a mano dal tuo amico magari li rivenderai al tuo amico o all'amico dell'amico, insomma dovrai cercare di farlo in questo modo se vuoi monetizzarli in modo anonimo, oppure d'altra parte se vuoi utilizzare a tua volta BISC, OdleOdle, idem, anche qui però sempre facendo attenzione, insomma ragazzi quello che voglio dirvi è massima allerta quando ci si muove chiaramente in anonimato, è importante farlo? Assolutamente sì, ti ho dato qualche soluzione possibile per poterti acquistare le tue cripto in modo anonimo, bitcoin o altre cripto che siano, consapevoli ora che se si parte in anonimo si deve rimanere in anonimo, non è che si parte in anonimo e poi si torna su una piattaforma, li metto lì e mi faccio il bonifico, no, quindi ti rompono le scatole e allora lì sì che poi c'è tutta la parte tassazione importante e questa è un'altra cosa è un altro paio di mani che ovviamente in questo video non ti voglio dire come vadere le tasse, ok? In questo video ti sto dicendo a scopo didattico come proteggere i tuoi dati sensibili, poi tu deciderai in autonomia se e come muoverti, però almeno ti ho dato risposta sul come si possono acquistare bitcoin in modo anonimo, ti ho dato risposta su quelli che sono i pro e i contro del farlo, i rischi associati soprattutto quando si rientra poi in valuta fiat o si vuole rientrare in valuta fiat ricordiamoci che bitcoin è nato per essere un sistema P2P quindi di scambio diretto. Un'altra cosa importante a sottolineare e presto porterò degli aggiornamenti proprio in questo ambito è che in Italia stanno nascendo tantissime soluzioni per poter pagare direttamente in cripto quindi senza necessariamente fare la conversione. Ci sono tante attività che hanno dei post che ci permettono di pagare direttamente in cripto quindi potrebbe essere in questo caso interessante andare a utilizzare effettivamente i nostri bitcoin o le nostre cripto per pagare direttamente senza dover far cash out e questo andrebbe a rendere l'idea della costruzione di un portafoglio anonimo estremamente utile anche poi in fase di cash out se vogliamo. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti se hai domande particolari o temi che vuoi approfondire scrivimelo sempre qua sotto se vuoi tutorial per esempio di piattaforme come Biska o Dload anche in quel caso scrivimelo qua sotto così lo so e mi metto all'opera mi raccomando proteggi sempre il tuo anonimato lascia perdere il discorso tasse queste robe qui ma si comunque sempre 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 attento a quali informazioni personali condividi in che modo perché i rischi soprattutto in ambito finanziario sono sempre molto elevati ti ringrazio per essere stato qui con me un abbraccio grande e ci vediamo nel prossimo video